Eccolo che arriva, perennemente il telefono. Speriamo a fare le cose fatte bene, non fanno le cose alla romana, fanno le cose, fanno finto che siamo una produzione americana. E vabbè, allora, e prima c'era un altro mondo, preparavi un'emozione, qui c'era una vita, qui c'erano quelli che affettavano gli abiti per il teatro, qui c'era roba americana, qui c'era un mondo fino a X anni fa, purtroppo, ma le cose belle e particolari, come diceva il mio nonno, non ti preoccupava, poi finiscono. Grazie a tutti.